Ciao, sono Anna di Zinest. Vuoi saperne di più sul Memoricare? Sono qui per aiutarti. Le comunità di Memoricare forniscono un'assistenza specializzata alle persone affette da qualsiasi forma di demenza, compresa la malattia di Alzheimer. Per demenza si intende la perdita della memoria e della capacità di pensare. Queste comunità specializzate dispongono di ambienti altamente sicuri dove il personale monitora le attività, dei residenti 24 a 7. Rispetto alle assisted living, la sicurezza è più elevata, ad esempio allarme su tutte le uscite, regole più restrittive per contrastare rischi come il vagabondaggio dei residenti all'esterno, grazie al livello di assistenza più elevato. Memoricare sono in genere più costose delle assisted living a parità di ubicazione e di qualità. Il metodo più comune per pagare Memoricare è il pagamento privato. Guarda altri video sui tipi di pagamento come l'assicurazione per l'assistenza a lungo termine e MediCaid. Scopri l'intera videoteca informativa di Zetanest sull'assistenza agli anziani.